Il libro di questa settimana si intitola Inferno di Dan Brown che dopo il grande successo con il codice Da Vinci è destinato a battere altri record di vendita. Il profilo inconvondibile come avete visto dalla copertina di Dante che ci guarda dalla copertina il motore mobile di un thriller che di Infernale ha davvero molto. Il ritmo prima di tutto e poi il simbolismo acceso e infine la complessità dei personaggi che conducono a un esito raro per i romanzi d'azione. Istillare nel lettore il fascino del male e addirittura la sua salvifica necessità. Come al solito alla fine di un'avventura che raggiunge momenti di insostenibile tensione Dan Brown ci rivela come nel nostro mondo la distanza tra il bene e il male sia breve in maniera davvero inquietante. Catastrofe e salvezza possono essere questioni di punti di vista e anche da una laguna a cielo coperto si possa uscire a rivedere le stelle. Un libro da leggere tutto d'un fiato. Per quanto concerne la classifica dei libri più letti in Italia ancora una volta troviamo al primo posto il libro del nostro Roberto Saviano 000 seguito dal libro di Donato Carrisi L'ipotesi del male. Al terzo posto invece sale il libro di Luca Zafforlin Se ci credi davvero. Invece per quanto riguarda le vendite al punto vendita della libreria Millede di Agrigento abbiamo al primo posto il nuovo libro di Dan Brown Inverno. Seguito anche in questo caso dal libro di Roberto Saviano 000 e al terzo posto troviamo anche in questo caso il libro di Luca Zafforlin Se ci credi davvero.